Raccogliamo l'appello dell'Associazione La Crisalide con base in Valdarno, a Montevarchi. Da anni voi vi occupate di supportare le famiglie. Ecco, in questo momento soprattutto vi state occupando di aiutare per quanto riguarda la prenotazione per il vaccino anti-covid e attraverso una lettera avete sottolineato alcune criticità. L'Associazione si fa portatore di un grido d'allarme che c'è stato dalle nostre famiglie. Diciamo che ci sono state delle criticità nella prenotazione dei vaccini, criticità piuttosto importanti. Un esempio irratante è che domenica scorsa un nostro ragazzo di 16 anni e mezzo, nonostante sia stato prenotato e ha fatto tutto l'iter e gli è arrivata la prenotazione e domenica non è stato possibile vaccinarlo perché il vaccino moderna non può essere dato ai ragazzi sotto i 18 anni. Ma questo noi non lo sapevamo. Anche se nel sito della regione c'è scritto, però comunque era arrivata la prenotazione. Io ho fatto un appello in modo che anche i sindaci della nostra zona, ma io spero di tutto l'aretino, si organizzino per dare una mano per poter vaccinare. Se uno è anziano, come può andare a prenotarsi su uno? Mettiamo a disposizione di queste persone nei vari comuni un centro in cui si possa prenotarsi, mettere insieme le associazioni.